Allora, siamo con Ciaffi, attaccante del leggo smistamento, hai fatto un grandissimo gol che aveva accorciato le distanze, però non è bastato. Insomma, un commento su questa sconfitta. Che è arrivata nonostante una buona prestazione? Guarda, sicuramente i primi due gol ci hanno un po' scombussolato. Poi abbiamo provato a riaprirla con il gol, siamo rimasti sotto e il secondo gol è quello che ci ha un po' steso le gambe. Siamo ripresi col gol che abbiamo riaperto la partita, che ho fatto, però il tempo dopo ci ha condannato e la partita è finita. Poteva darci un po' di recupero in più l'arbitro, ma non è andata così. La partita è finita, alla fine abbiamo giocato un buon primo tempo, siamo impegnati, ci ha detto male col palo che abbiamo preso al primo tempo, l'avremmo avuto già un'altra partita, ma il risultato alla fine è stato questo.